Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, oggi vi porto un bestione di spider con 4500 hp, cohort e 10 gambe, con le reaper. Sinceramente mi sono sempre piaciute le reaper sin da 3-4 anni fa che ci ho giocato un sacco, però ultimamente iniziava a diventare complicata la storia di usare le reaper perché con la sua grande hitbox sono facilmente disarmabili. Ho trovato questa build in exhibition, quindi non è di mia costruzione, l'ho trovata, non riesco più a trovare chi l'ha costruita, se no ve lo mettevo nel building, ma ha fatto veramente un ottimo lavoro, perché nel frontale è impossibile che perdi le armi, è impossibile essere disarmati. Oltre a questa i 4500 hp con Perseus come co-driver, quindi ottimo perché sono minigun comunque le reaper, quindi hanno il boost del danno, dello spread eccetera eccetera. E oltre a quello è bellissimo, fai dei danni spaventuosi e riesci a contrastare la maggior parte degli over nella media distanza. E questo è molto interessante perché sinceramente non gli avevo dato più tanto merito a queste armi qui. La build ottima, l'unico problema è che sul lato riescano a disarmarti con due colpi, purtroppo avendola in questa maniera è difficile coprirla, ma nel frontale è difficilissimo disarmarla, appunto perché sono abbastanza incassate e la hitbox delle gambe crea difficoltà sul disarmamento. Detto questo vi lascio al gameplay, mi raccomando mettete un bel like se ti è piaciuto il video, commentate e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, get out of here. What a lovely day. We're taking losses. I repeat, we're taking losses. Get away. 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 Grazie a tutti. One of ours is down. You're the last one sneaking around here. Good luck, guys. It's a victory. Here we go. Keep them away from the base. I'm a little busy here. I got him. I got him. I got him. Keep it up. The last one is trying to sneak around. Mission accomplished. Enemy forces destroyed. The last one is destroyed. Yeah. Good one. Take down one of us. Good shooting, lad. Keep it up. Notice the siren, gentlemen. Three heads up. The enemy's at the base. Not going to need that steering wheel no more. The enemy is something I'll bring. Good Good risk. Oh, I got you. Come on. å? Let's go. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!